buonasera Sherwood Festival 2021 Gian Maria Cugiani ma da grande fai il musicista e adesso? adesso devo ancora diventare grande quindi farò già faccio già il musicista e lo farò ancora no? cosa hai pensato di fare prima di fare musicista? guarda io penso ho pensato quella roba lì da quando avevo sei anni quindi tanti ricordi prima di quell'età non ci sono ma neanche il draghetto grisuta hai ispirato? no io sono nato in una famiglia di musicisti dal primo giorno quello volevo fare e quello fatto allora parliamo di una cosa bella il great conplotto e tutto quello che ha portato Pordenone la londra italiana come ci hai raccontato anche sul palco ti ha dato chiaramente una grossa spinta però hai spaziato tra i generi come non pochi pensiamo ai futuritmi per esempio ma prima ancora dei futurimi parliamo quando sono entrato nel great complotto quelli che erano il gruppo originario che erano gli gigolo look che poi i futuritmi sono in realtà quello che è arrivato dopo ma il gruppo vero con cui suonavo nel great complotto erano gli gigolo look era il mio gruppo era il gruppo con cui ho iniziato a fare qualcosa di un po più vero rispetto prima prima suonavo nelle sale prove nelle sale prove con quel gruppo lì ho iniziato andare in giro a suonare a fare i primi dischi fatto il primo disco che avevo 13 14 anni ricordo proprio eravate una delle band con il nome più standard tra tutti quelli di Pordenone allora tra i quattro elementi ti chiedo qual è stato quello più influente per cambiare la testa dei pordenonesi e fare appunto di Pordenone una fucina artistica degli anni settanta e decenni a venire cioè qual è stato il gruppo più l'elemento dei tre quadri l'acqua e il fuoco ah ok ma è fiume forse beh l'acqua perché comunque allora tutto girava attorno al attorno al noun perché il noun che scusa che è il noun è il noncello che è il fiume che attraversa Pordenone quindi sicuramente l'acqua il minimalismo e la rabbia hanno sempre fatto parte della tua carriera dagli anni 90 in poi la rabbia perlomeno distorta il minimalismo di sic e tamburo poi trasformato in una forma più melodica ha dato forza a vita e sentimento qual è il tuo pezzo di sic tamburo preferito allora guarda per ragioni affettive il pezzo il pezzo preferito che è sempre stato il pezzo preferito mio dell'elisabetta è stato un giorno nuovo ma per ragioni anche legate a quello che è successo un giorno nuovo diciamo era il nostro pezzo anche se ti dico ci sono tanti pezzi a cui sono affezionato la mia mano sola ah vedi stasera mi sono anche dimenticato di farla prima di tante collaborazioni di featuring dell'eat pop italiano c'è stata una grandissima manifestazione ed unione proprio per la fine della chemio in una riedizione incredibile in vinile ma non solo che ha segnato un po' la discografia italiana qual è il tuo ricordo di quel momento della fine della chemio ma ti dico è un momento che dura totalmente tanto perché come dicevo prima durante lo spettacolo per mettere insieme tutta quella gente tutto quel lavoro poi racchiuso in tre minuti di canzone ci abbiamo messo due anni quindi sai non c'è un è proprio un lavoro faticoso che però poi ha portato quel risultato quindi diciamo che forse il momento più bello è stato il giorno che è uscito il singolo in radio è stato sai una sorta di liberazione in qualche modo da grande faccio il musicista stendi il tuo profilo linkedin in poche parole guarda io ti dico solo questo io sono nato e ho capito che l'unica roba che mi interessava fare era quella e penso di essere uno dei pochi ma veramente pochi al mondo che ha una che ha avuto una fortuna di questo genere cioè fare quello che hai sempre voluto fare è difficile non è facile cioè per me io per dirti non so con la musica lavoro 10 15 ore al giorno per me non è lavorare non è fatica per me eppure ci sto lì ti dico certe volte barcollo che non stai neanche in piedi ma non è faticoso perché faccio esattamente quello che ho sempre voluto fare io per me concepire il fatto che non so domani mattina dove mai dovrei alzarmi alle 8 per andare alle 7 è improponibile per me cioè io posso pensare lavorare anche 20 ore al giorno ma se faccio una roba che mi va bene a me e questo l'ho pensato quando avevo sei anni e durante la mia vita sono riuscito a metterlo in pratica e così quindi questo ho da dire cioè mi sento una persona fortunata non come come molto poche oltretutto qual è il momento più difficile quando lavori divertendoti ma non c'è perché ti dico la fatica alla fine non la senti nemmeno il momento più difficile quando qualche rara volta arrivano arrivano dei segnali che sembra che ti vogliono fregare il divertimento fortunatamente sono sono pochi e durano veramente poco ecco quelli sono i momenti difficili ma in realtà so che non so che non possono durare perché il giorno che quel momento dovesse durare tanto finirò di fare questa cosa due anni fa hai pubblicato avete pubblicato un album chiamato la paura e l'amore e vent'anni fa proprio in questi giorni si è verificato un evento che paura ed amore riescono a riassumere benissimo che cosa è cambiato in questi vent'anni dopo l'italia della genova del 2001 beh allora guarda faccio faccio un discorso ancora ancora legato a qualcosa di diverso che è che è l'inizio del mio racconto dello spettacolo no quando parlavo del greco complotto della grande diversità che avevamo con gli altri che eravamo sembravamo dei marziani cioè per me tuttora purtroppo lo dico proprio purtroppo è brutto vedere che ancora adesso le diversità fanno paura e vengono contrastate alle volte con sistemi che sono inconcepibili direi è brutto vedere ancora questo cioè non abbiamo ancora capito che le diversità non ci sono no non l'abbiamo capito e le diversità sono sempre battute sono trattate a volte come è successo tanti anni fa in una maniera che è inconcepibile voglio dire eppure io credo che ancora adesso basta guardare guardarsi a guardare al di là guarda guarda gli stati uniti quelle robe succedono sempre cioè e come mai perché se non sei omologato non sei non sei uguale a tutti è un problema e tuttora vedo ancora questo io la diversità è la roba che fa che fa paura probabilmente o comunque sai essere diverso vuol dire che sei poco controllato se sei poco controllato la gente cerca di controllarti questa verità tema libero sherwood e grazie per essere con noi qui ancora grazie a voi grazie a voi mi devo dire la verità mi sono divertito mi sono anche emozionato alla fine con i ragazzi sotto dai grazie già grazie a voi ragazzi grazie grazie a voi